Non bisogna solo ascoltare la denuncia, ma è molto importante ascoltare anche chi viene accusato. Viene verso di te. Dai, 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 dai! C'è un errore, io sono un architetto. Le sue generalità, prego. Ho il diritto di sapere. Voglio parlare con il giudice. L'hanno portato via in manette davanti a tutti. Tu sei 35331. Questo denaro lo ha distorto minacciando lui e la sua famiglia. Sono io la vittima. Chiedo la condanna dell'imputato Torres alla pena di anni 7 di reclusione. Non ci vuole nulla a fregare il sistema se sei in malafete. È finito. Tra Bello e Cassazione potrebbe durare ancora dieci anni. Sono un prigioniero della mia libertà. Fosvaldo ci ha fregati. Ci lasci in pace. Voglio i soldi di vedere. Non le deve niente. Torniamo a vivere, amore mio. Me la parlo! Ultimamente vi parlava di un progetto. Chi mi ha causato questa follia? Verona. Ho paure. Quanto vale la libertà di un uomo? 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 Grazie a tutti.